Ed ora cambiamo per un istante argomento, interessante convegno presso la Sala Gialla dell'Assemblea Regionale Siciliana inerente alla formazione professionale, oltre il pregiudizio, ascoltiamo oggi Tony Marfia, coordinatore feder terziario per la formazione siciliana ma anche Alessandro Franco, segretario generale feder terziario, Vincenzo Figuccia, parlamentare regionale Gruppo Lega nonché l'assessore regionale a distruzione dalla formazione professionale Mimmo Turano per voi Riteniamo che sia importantissimo partire da questi presupposti perché questo settore è stato negli anni martoriato proprio dovuto al pregiudizio, andare oltre il pregiudizio e solo così possiamo rimettere in sesto una filiera che si interrompe così senza che ci sia poi alla fine una continuità nel percorso didattico i primi anni, secondi anni, terzi anni dell'IFP che stentano a partire, non partono mai insieme così come dovrebbero alla scuola statale, quarti anni che non vengono finanziati l'IFTS che non viene finanziato almeno da una decina di anni precludendo ai nostri allievi la possibilità di potersi iscrivere agli ITS ITS che a causa della mancanza di allievi soffrono e non riescono a fare partire i loro progetti Il cane che si morde la coda? Benissimo, il cane che si morde la coda, quello che chiediamo è un coinvolgimento insieme a tutte le istituzioni per poter mettere fine a questo massacro, tra virgolette La richiesta più bella è arrivata dall'uditorio e da chi si è intervallato a Leggeo E' interessantissimo l'intervento fatto dall'amico Massimo Papa di CENFOP E' interessantissimo anche l'intervento di Antonio Oliveri ma la richiesta del sindacato si pone degli obiettivi importanti Questi percorsi si rivolgono ad un'utenza particolare un'utenza che già, ancora prima di iscriversi, è in dispersione scolastica Il mismatch tra domande e offerta di lavoro è molto elevato e quindi bisogna investire in competenze ce lo chiede il mercato del lavoro che è in continua evoluzione Oggi è venuto fuori proprio l'esigenza da parte degli amici siciliani di gridare a gran voce che le scuole di mestiere devono essere equiparate alle scuole pubbliche lo studente, sin da giovane, riverrà poi lavoratore e quindi deve diventare un lavoratore responsabile e un lavoratore professionalmente formato Io direi che non è che ce lo chiede l'Europa ma ce lo chiede l'economia del posto Ce lo chiede sicuramente l'economia e proprio per l'ecosostenibilità anche dei territori iniziative come queste tendono proprio a far sì che si possano creare dei mercati locali autosufficienti e la formazione secondo noi di Feder Terziario è uno dei punti cardine sui quali bisogna puntare Non più globalizzazione ma localizzazione Localizzazione, siamo già fin troppo globalizzati noi invece dobbiamo necessariamente riscoprire il valore del territorio e dell'autosostenibilità del territorio stesso L'assessore Turano arriva da un'esperienza importante che è quella del mondo produttivo legata al coinvolgimento delle aziende adesso mi sembra davvero si sia svoltato Dalle parole dell'assessore che l'ho seguito passo passo che vi è uno scollamento quasi fra ciò che è realmente la domanda e ciò che noi creiamo al mercato Se effettivamente come dallo studio che è stato fatto dai suoi uffici risulta che ci sono qualifiche del mondo della formazione personale che ad oggi non vengono attivate in Sicilia questo è un problema soprattutto se quelle qualifiche sono qualifiche assolutamente spendibili che possono dare la possibilità a questi ragazzi di andare a lavorare Cosa aggiungiamo? Questo lavoro non è un lavoro soltanto dell'assessore è un lavoro dell'aggiunta di governo, delle forze politiche, del gruppo parlamentare io in confronto con l'onorevole Figuccia che è molto attento al mondo della formazione ho condiviso e costruito un meccanismo che possa dare certezza alla formazione e prospettiva dei lavoratori